Due storie di fragilità e complessità, comunque entrambe di infelicità. Anna Carienina La felicità non è più possibile. e La coscienza di Zeno Tentare di guarire, di progredire, è un'illusione. Aber ci svelerà i segreti della sua intensa interpretazione. Sai che c'è? Voglio farlo in maniera aberiana. E Galatea Ranzi ci farà entrare nell'animo di uno dei personaggi più inquietanti e struggenti della letteratura. Libera da tutti e da me stessa. Impossibile perdersi di vista.